E' morta 24 ore dopo il suo accesso al pronto soccorso dell'ospedale della Garuccia una donna di 45 anni, Angela Lucia Bianchi, insegnante di religione. Per lei sono state letali le complicanze dovute al virus dell'influenza. Il ceppo riscontrato sarebbe l'H1N1, quello che qualche anno fa avremmo chiamato influenza suina, ma che oggi si è ormai sviluppato come una normale influenza. Il virus che ha colpito questa signora è il virus influenzale H1N1, che insomma nel 2009 quando è stato scoperto è stato definito influenza suina. Però oggi viene chiamato virus influenzale H1N1, che purtroppo può dare delle complicanze severe, talvolta anche in pazienti cosiddetti immunocompetenti, cioè persone che non hanno nessuna patologia cronica o altre comorbidità. Il ceppo è peraltro inserito nella campagna vaccinale. Casi gravi e anche mortali da influenza purtroppo in Italia se ne verificano tutti gli anni e ovviamente anche in Toscana. L'anno scorso abbiamo avuto 63 casi gravi in Toscana con ben 15 decessi. Per cui quest'anno siamo a 9 casi gravi con 2 decessi, questo è il terzo. Per questo motivo i servizi di prevenzione, i medici di famiglia, i pediatri di famiglia, tutti gli anni, a ottobre e novembre, promuovono e offrono la vaccinazione anti-influenzale. A darne notizia è stata l'azienda USL Toscana Centro, area fiorentina, attraverso una nota stampa. La donna, si legge, non era vaccinata e pare non appartenesse a nessuna categoria a rischio. Non era vaccinata, non rientrava nelle categorie a rischio a quanto ci risulta. È ovvio che potrei dire anche questo, che essendo stata, se non sbaglio, una maestra, poteva essere beneficiare eventualmente perché ci sono delle professioni, dei lavori, dove vedi i sanitari, vedi magari le forze pubbliche, vedi gli insegnanti, dove la probabilità magari di beccarsi, di prendere l'infezione o comunque le conseguenze di un'infezione che colpiscono molti di questi lavoratori potrebbero avere un impatto anche sulla società, in questi casi magari potrebbe essere anche raccomandabile. Previsa adesso una profilassi o no? Ma in realtà per diciamo coloro che hanno contatti con pazienti che hanno l'influenza abitualmente non è prevista profilassi, non è prevista diciamo un'attività di sanificazione degli ambienti come magari può accadere in altri tipi di patologie infettive.